Noi a Emiliano ormai ci siamo abituati, è stato sempre fianco a fianco con gli pseudo ambientalisti, qui ne è andato in mezzo il lavoro di mio padre, voglio dire, i sudori di mio padre di una vita. Dunque ancora oggi noi ci vediamo umiliati. La nomina di Alessandra Miccoli nel collegio di esperti, 47 ad oggi, costituito dal presidente Michele Emiliano per contrastare la diffusione della Xilella, ha suscitato malumori non solo nel mondo politico ma anche agricolo e imprenditoriale. Il suo è un nome noto per chi da anni lotta contro questo batterio fastidioso perché streno oppositrice dell'eradicazione degli alberi infetti e del piano Silletti. Se gli alberi disseccati fossero stati tutti tagliati all'origine, si sarebbe probabilmente fermata la diffusione della Xilella. Non solo una ex negazionista, ma stando ai comunicati dell'ultima ora degli oppositori alla nomina, Miccoli non avrebbe né lauree né esperienze in agraria. Lui dovrebbe avere l'umiltà quantomeno di schierarsi con persone come noi e non con pseudoambientalisti di basso borgo. Questa metastasi sia veramente ingestibile. L'unica cosa che chiedo è quello di comunque seguire attentamente quello che dice la parte scientifica. Tenere puliti i terreni, creare le condizioni per vedere di ridurre la velocità di propagazione di questo batterio. Purtroppo abbiamo questa difficoltà. Ci sono diverse misure per le quali la regione ha lavorato, ma c'è sempre comunque il problema, tanto per fare un esempio, una variante in una misura, ti fanno aspettare un anno, un anno e mezzo, per poter valutare se tale variante può essere fatto o meno. Dunque sono anni e mesi che si perdono.